Istat nel 2014 la pressione fiscale sale al 43,5%. Crescono del 3,3% le imposte indirette del gettito IVA e della Tasi. Raineri urgente intervenire sul potere di acquisto di salari e pensioni. Imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi riprende il confronto per il nuovo contratto nazionale di lavoro. Le priorità della Fisaskat, relazioni sindacali, bilateralità e normativa appalti. Mercatone 1 sono tre i potenziali investitori per i punti vendita in segna Mercatone 1. Alta l'attenzione dei sindacati sul futuro dei 3.700 addetti. Dell'orefice la nostra priorità è il mantenimento dei livelli occupazionali. Gruppo Comifar dietro fronte aziendale, prorogata la validità dell'integrativo. I sindacati revocano lo sciopero del 6 marzo. Raso, ora si avviva fase di trattativa per il nuovo contratto. Firmata l'intesa con il gruppo Natuzzi, nessun licenziamento. Previsti i contratti di solidarietà per oltre 1.800 lavoratori tra operai, addetti alle vendite e impiegati amministrativi. Ippodromi e sale corse sempre più in gravi difficoltà. Organizzata una manifestazione nazionale con presidio davanti al Ministero delle Politiche Agricole. 8 marzo, giornata internazionale delle donne. Anche la Fisaskat sostiene il progetto di cooperazione Merito di Più, promosso in Pakistan dalla CISL e dall'ISCOS per la tutela e la legalità del lavoro delle donne e dei bambini. Per la rubrica delle news dai territori faremo tappe in Emilia Romagna, Friuli ed Umbria. Ben tornati al TG Lab. Nel 2014 la pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%. Ne ha dato notizia l'Istat che ha segnalato anche un aumento totale delle entrate dello 0,6% rispetto al 2013 con una incidenza complessiva del 48,1%. L'aumento delle entrate correnti, sottolinea l'Istituto di Statistica, è dovuto principalmente all'aumento delle imposte indirette al 3,3%, quello imputabile al gettito IVA, e all'introduzione della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili. Sulle rilevazioni periodiche è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui la pressione fiscale per effetto del bonus degli 80 euro ammonterebbe al 43,1%. Dati comunque poco confortanti che insieme al calo del PIL dello 0,4% e all'indebitamento netto del 3% del prodotto interno lordo, sempre segnalati dall'Istat, delineano un contesto recessivo almeno per l'anno appena trascorso. Per la Cisle e per la Fisascat non è più rinviabile un intervento che riduca il cuneo fiscale che grava su lavoratori e pensionati. Entra nel vivo intanto la campagna confederale sulla raccolta firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare di riforma fiscale. Tra le proposte della Cisle, proprio l'introduzione di un bonus fiscale di 1.000 euro per i redditi fino a 40.000 euro lordi, esenzione sulla prima casa, riordino delle detrazioni per il coniuge di figli a carico e assegno al nucleo proporzionale ai carichi familiari, semplificazione e introduzione di una tassa sui grandi patrimoni oltre 500.000 euro. Per la Fisascat è urgente un intervento che accresca il potere di acquisto di salari e pensioni. Occorrerà anche riflettere sull'aumento dell'IVA, che certo non ha aiutato la ripresa dei consumi, ma piuttosto ha indebolito ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie, come rilevato dall'Istat, ha dichiarato il segretario generale Pierangelo Raineri. Sarà una riflessione da approntare nell'immediato, suggerisce infine il segretario, considerato che, se nel 2015 non si dovesse rispettare il 3% del rapporto deficit-PIL, le clausole di salvaguardia di bilancio contemplano un ulteriore incremento dell'imposta sul valore aggiunto del 25%. Sono riprese le trattative per il rinnovo del contratto nazionale applicato al mezzo milione di addetti delle imprese di pulizia strutturate e dei servizi integrati e multiservizi, settore che risente fortemente del calo della domanda di beni e servizi e degli effetti degli interventi di spending review attuati dai governi in questi anni. La Fisasca ha ribadito l'importanza che nel settore esista un unico contenitore contrattuale di riferimento, che delinea i regole certe condivise sul rafforzamento della contrattazione decentrata e sul consolidamento della bilateralità e del welfare, con particolare riferimento al tema dell'assistenza sanitaria integrativa. Tra le altre priorità della categoria è il salario, le indennità riconosciute per il lavoro domenicale ed il rafforzamento dell'articolato sul cambio di appalto, considerato che nel settore si opera prevalentemente in questo regime. Su questo tema la Fisasca, nell'ambito del dibattito sul Jobs Act, ha condiviso la posizione della CISL. I lavoratori dipendenti da imprese che vincono le gare dovranno essere assunti con le vecchie regole, dunque tenendo conto dell'anzianità di servizio. Affronteremo la prosecuzione del negoziato senza rinunciare alle nostre richieste, ha dichiarato il segretario generale aggiunto della Fisasca, Giovanni Pirulli. Punteremo ad un rinnovo contrattuale di qualità, che risponde essenzialmente alle esigenze di ampliamento delle tutele, anche a garanzia della salvaguardia occupazionale, ha concluso il segretario. Torniamo ad occuparci di Ame Business. La direzione aziendale ha dato comunicazione di tre offerte di potenziali investitori, su cui mantiene il massimo riservo, con i quali, si spiega in una nota societaria, sono già in corso contatti per il necessario approfondimento, la verifica e l'organizzazione di quanto necessario, al fine di valutarne i contenuti e la portata. Per la Fisasca sarà importante verificare, in occasione del prossimo confronto con gli organismi della procedura di concordato preventivo, previsto per il 12 marzo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, cosa riserverà il futuro per i circa 3.700 dipendenti, complessivamente impiegati nei 79 punti vendita attualmente attivi. La nostra priorità è il mantenimento dei livelli occupazionali, ha commentato il segretario nazionale Vincenzo Dell'Orefice. Auspichiamo dunque la sostenibilità economica del piano concordatario per una risoluzione positiva della vertenza. Ed ora un aggiornamento per i 1.800 dipendenti di Comifare, il gruppo della distribuzione del farmaco. Il pressing di Fisaskat, Filcams e Wiltux ha sortito i suoi effetti. I sindacati hanno infatti revocato lo sciopero di 4 ore indetto per il 6 marzo. La decisione è stata presa in seguito al dietrofronto aziendale sulla proroga della validità del contratto integrativo aziendale, almeno fino al 30 giugno 2015, e sulla disponibilità a valutare un ulteriore posticipo per il periodo utile alla definizione del nuovo accordo integrativo. La Fisaskat ha commentato positivamente il prolungamento dei benefici economici e normativi previsti dalla contrattazione decentrata. Questo periodo sarà utile per avviare con più serenità la trattativa per la definizione del nuovo contratto aziendale, ha dichiarato il segretario organizzativo nazionale della Fisaskat, Rosetta Raso. È importante in questa fase ripristinare regolari e corrette relazioni sindacali, ha aggiunto il nostro auspicio, e che il confronto sia costruttivo e finalizzato ad un rinnovo condiviso. Firmato al Ministero del Lavoro, l'accordo tra le varie sigle sindacali, Fisaskat, Cisle compresa, è il gruppo Natuzzi, il noto mobilificio con sedi di vendita in tutto il mondo. L'accordo, a fronte dei 1.550 esuberi a suo tempo dichiarati dall'azienda, prevede contratti di solidarietà per 1.818 lavoratori, operai, addetti alle vendite e impiegati negli uffici, a partire dal 2 maggio. Scatteranno negli stabilimenti di Iesce 1, Iesce 2, La Terza, Santeramo e Matera. 500 lavoratori saranno collocati in cassa integrazione nel sito di Ginosa. 100 di loro rientreranno in produzione entro metà ottobre 2015. Dei restanti 400, 100 saranno ricollocati in New Co, presumibilmente entro il 2015, mentre per 300 lavoratori si proseguirà nella ricerca di soluzioni occupazionali esterne e potranno accedere alla mobilità volontaria incentivata. Fisaskat, Cisle, SLC, CGL e Wilcom, insieme alle associazioni degli ipodromi e alle federazioni delle corse ipiche, hanno indetto per il 25 marzo una manifestazione nazionale con presidio davanti al Ministero delle Politiche Agricole. In quell'occasione verrà sottoscritto un documento di impegno comune per contribuire con proposte concrete alla soluzione della profonda crisi e per partecipare alla gestione dell'emergenza del settore, che in quattro anni ha perso oltre 2000 posti di lavoro. La situazione è gravissima, hanno dichiarato in un documento congiunto, e non è più possibile andare oltre senza la necessaria attenzione da parte dei ministeri interessati e del governo. Ci riserviamo ogni azione a tutela del settore. Anche altre sigle sindacali hanno dato la loro adesione alla manifestazione. Anche quest'anno, in occasione della giornata internazionale delle donne dell'8 marzo, su proposta del Coordinamento Nazionale Donne CISL, il Dipartimento Politiche Migratorie Donne e Giovani della CISL, la FISASCAT ha deciso di sostenere un progetto di cooperazione internazionale dell'ISCOS, che l'Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo sta realizzando in Pakistan per offrire un valido sostegno alle donne e ai minori di quel paese. Merito di più è il tema della campagna, che si pone come obiettivo quello di aiutare più donne pakistane ad uscire dalla rete del lavoro forzato, fenomeno purtroppo largamente diffuso nel paese, e per intraprendere attraverso la formazione percorsi legali e tutelati di lavoro. E passiamo alle notizie dei territori. Iniziamo da Bologna. È stato siglato l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale con Coppa Adriatica. Dopo mesi di serrato negoziato, annunciano i rappresentanti di FISASCAT, Filcams e Wiltux, è stata raggiunta un'intesa che consentirà una significativa risposta occupazionale e reddituale attraverso l'assunzione di 50 addetti e l'incremento orario a 30 ore settimanali per ben 450 lavoratori già occupati in Coppa. Sono previsti percorsi innovativi, tesi a sperimentare anche nuovi modelli organizzativi per conciliare la necessità della cooperativa con quella dei lavoratori. Ed ora un'altra notizia giunge da Bologna, dove si è tenuta un'importante giornata di celebrazione e di studio che ha sancito la nascita a livello territoriale e regionale della FISTA, la federazione sorta dalla sinergia FISASCAT-FELSA. Le conclusioni dell'incontro sono state curate da Pierangelo Raineri, segretario generale di FISTA e FISASCAT-CISL. Restiamo in Emilia-Romagna, dove a Modena e Reggio Emilia c'è grande soddisfazione in casa FISASCAT. È stato infatti firmato il nuovo contratto collettivo dei lavoratori di LAPAM Federimpresa, associazione che offre servizi di tutela alle aziende artigiane e commerciali e alle piccole e medie imprese e che conta 600 impiegati in 50 sedi. L'accordo prevede il conglobamento del premio di produttività su tutti gli istituti contrattuali, una nuova indennità di disagio per trasferimenti, permessi per cure salvavita e di studio, condizioni più favorevoli per l'allattamento e una banca ore per gestire la flessibilità. Il nuovo contratto, ha commentato il segretario provinciale della FISASCAT, Alessandro Martignetti, è stato approvato dai lavoratori a larga maggioranza. e senza una sola ora di sciopero. Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità. La FISASCAT ha scelto da sola di difendere il diritto dei lavoratori ad avere un contratto collettivo, pur in una fase di grande difficoltà. Trasferiamoci in Friuli, in provincia di Pordenone, presso la base nato di Aviano. Sono 13 le persone del reparto civile che hanno ricevuto la lettera di licenziamento nei giorni scorsi. La mobilità è scattata quasi in concomitanza con l'annuncio dell'arrivo di altri 400 militari americani, che si aggiungeranno ai 300 dello squadrone in arrivo dalla Germania. FISASCAT e Wiltux hanno annunciato un'assemblea ed hanno inviato una lettera a tutte le istituzioni regionali, segnalando la difficile situazione. Ribadiamo, affermata Eugenio Sabelli, segretario provinciale della FISASCAT-CISL, che non sono venuti meno ai posti di lavoro, ma si sta licenziando con l'intenzione di esternalizzare attività, le cui mansioni sono svolte da personale italiano. Ed ora in Umbria, a Terni, dove 140 lavoratori di due call center, K4Up e Overing, hanno proclamato uno sciopero ad oltranza. Qualcuno di loro ha già ricevuto la lettera di licenziamento, altri non hanno ancora percepito lo stipendio. Si tratta in gran parte di lavoratrici femminili, per le quali sarà molto difficile trovare una nuova collocazione, ha sottolineato Angelo Manzotti della FISASCAT. Il tipo di contratto applicato non prevede la possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali. Ci salutiamo, vi ricordiamo che è possibile consultare il TGLab anche su Facebook e su YouTube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at FISASCAT. Per segnalazione e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima settimana. La FISASCAT CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La FISASCAT CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La FISASCAT, insieme alla Felsa CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La FISASCAT, la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela. FISASCAT